Nonostante l'applauso della maggioranza che ha aperto la seduta nell'aula del Senato in cui il Premier Conti ha illustrato l'accordo sul Recovery Fund, adesso l'Italia si accinge alla sfida maggiore, risanare l'economia messa a terra dal coronavirus. Con la decisione di ieri il Consiglio ha abbracciato quindi una diversa prospettiva in favore di un'Europa più coesa, più inclusiva, più solidale, più vicina ai cittadini, in definitiva più politica, certamente più coerente quindi con lo spirito originario del sogno europeo. Questo Governo si assume la responsabilità di predisporre, realizzare questo piano con impegno, determinazione, lungimiranza, avendo consapevolezza che il futuro migliore dei nostri cittadini, ma anche dobbiamo essere consapevoli. La credibilità dell'Italia in Europa passerà anche da qui, da saper dimostrare di cogliere questa opportunità storica manifestando una capacità propositiva, decisionale e attuativa che non ceda a particolarismi. I fondi arriveranno nel 2021, ma il 10% dei sussidi potranno essere anticipati per finanziare i progetti avviati dal febbraio 2020. A fronte delle grandi difficoltà generali che hanno fiaccato il Paese, anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha chiesto che l'ingente massa di denaro venga investita in interventi efficaci che rialzino l'economia nazionale.